Iniziamo con voi e finiamo con voi. Viviamo in tempi difficili e ora più che mai la consulenza aziendale e personale è fondamentale. Affinché un'azienda possa lavorare, deve essere in grado di vendere i propri prodotti e servizi, pagare il proprio personale e sostenere i costi di gestione. Se tutto questo accade, il successo dell'azienda diventa anche il successo per l'economia che la circonda. Si crea occupazione, si generano tasse, quindi si possono pagare i servizi pubblici, le nostre scuole, le nostre strade ed i nostri ospedali. Ed è per questo che noi esistiamo. Vogliamo che abbiate successo. Vi aiutiamo a creare le fondamenta, vi sosteniamo nello sviluppo della vostra attività e quello che facciamo insieme vi garantirà una continua crescita. La vita è fantastica e noi vi aiutiamo con consulenze e consigli validi per raggiungere i vostri obiettivi. Ma non tutte le consulenze sono uguali. Abbiamo a disposizione soluzioni complete per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Iniziamo da voi e ci concentriamo sulla profonda comprensione dei vostri obiettivi per completare il vostro quadro finanziario. In tempi difficili, guardiamo anche oltre le soluzioni tradizionali. Lo facciamo attraverso il nostro team di contabili professionali, di analisti finanziari, di gestori patrimoniali e la nostra rete internazionale di partnership. Vi assisteremo aiutandovi a costituire le vostre società e a gestirle in modo efficiente, fornendovi una gamma di servizi diversi ed integrati che vanno dalla costituzione ai servizi contabili, ai servizi fiscali, ai servizi di rappresentanza IVA ed ai servizi di audit. Vi supporteremo anche quando avrete bisogno di espandervi a livello globale e desidererete internazionalizzare il vostro business e grazie alla nostra struttura globale saremo sempre al vostro fianco, in modo competente e mirato. Possiamo anche aiutarvi con le vostre tematiche personali, consigliandovi in materia di redomiciliazione, di pianificazione fiscale e personale e di gestione patrimoniale. Insieme pianificheremo i vostri obiettivi ed in base alle vostre esigenze personali costruiremo una strategia adatta a voi ed organizzeremo di conseguenza i vostri fari, la vostra attività e la vostra nuova vita. Anche dopo aver definito pianificazione strategia, il nostro lavoro non è ultimato, ma bensì è solo iniziato. Comunicheremo regolarmente con voi per discutere della vostra azienda e delle vostre esigenze personali e risenteremo il piano e le strategie quando, se necessario, in base alle vostre mutate esigenze e in base ai cambiamenti dei mercati in cui operate. Mentre molti dei nostri concorrenti si concentrano principalmente sul loro di ritorno, noi ci concentriamo esclusivamente su di voi. Vi offriamo una consulenza finanziaria e patrimoniale personalizzata, supportata dall'innovazione, dalla conoscenza e dall'integrità di IVEX. La vita è grande, pianifichiamola insieme. Contattateci per saperne di più. Info chiocciola IVEX.services più 4191 683 6343 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.